Siciliano, pizzaiolo e da vent'anni nel cuore del pubblico Mediaset, ecco chi è Salvatore Veneziano. Classe 1975, Salvatore Veneziano, meglio conosciuto come Salvo, nasce a Siracusa il 4 aprile. Di umili origini, cresce con mamma casalinga, due fratelli e papà pizzaiolo, dal quale eredita la passione per il mestiere. Nel 2000 diventa noto al pubblico TV per la sua partecipazione, a soli 25 anni, alla primissima edizione del Grande Fratello, condotta allora da Daria Bignardi. Suoi compagni di avventura sono la bagnina bresciana, vincitrice Cristina Plevani, la gatta morta Marina Larosa, Rocco Casalino, oggi nome della nostra politica, e il compianto guerriero Pietro Taricone. Terminata l'esperienza nella casa più spiata d'Italia, Salvo decide di restare lontano dallo showbiz, dedicandosi con impegno e passione alla pizza, ed espandendo così la sua attività, sempre più di successo. Ad oggi i suoi ristoranti sono ben 17 e sparsi da nord a sud. Veneziano, in più di un'occasione, racconta che a dargli l'idea di crearsi un lavoro parallelo è Maurizio Costanzo, dal quale, ai tempi del GF, è stato più volte televisivamente ospitato. Padre di tre figli, è sposato con Giusy Merendino. La loro storia nasce quando sono entrambi adolescenti, un amore solido e stabile, grazie al quale riesce a superare gli iniziali problemi nati a causa dei facili guadagni post Grande Fratello. Programma nel quale torna nel 2020, accettando la proposta di Alfonso Signorini di partecipare come concorrente nella quarta edizione VIP. Programma nel 2020, accettando la proposta di Alfonso Signorini di partecipare come concorrente,